Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix. Quanto mi mancava la Serie A, quanto mi mancava l'Inter come l'aria. Veramente avevo bisogno di vedere giocare l'Inter una partita del genere. Per tanti motivi questa era una gara fondamentale. Il primo di tutti è che se l'Inter voleva dimostrare di essere una squadra che ambisce quest'anno attualmente a vincere il campionato, doveva per forza vincere questo scontro diretto. Doveva vincere primo per non aumentare il distacco dalla prima, che ovviamente i punti della matematica contano, e in secondo luogo perché non puoi vincere un campionato o ambire a vincere un campionato senza vincere uno scontro diretto. Era troppo importante questa gara, era veramente troppo importante. E anche se i milanisti questa sera forse tifavano per noi, perché volevano essere ancora lì in testa insieme al Napoli, sono contento di avergli dato una gioia, perché questa sera ho visto tutto. Questa sera ho visto tutto, ragazzi. Ho visto tutto quello che io voglio vedere dalla mia squadra, e cioè dall'Inter. Ho visto una squadra che gioca a calcio, gioca bene a calcio, e che reagisce subito, immediatamente anche a un gol preso a freddo, perché comunque all'inizio partita, e risponde molto bene sul campo, fraseggiando. Vi avevo detto una frase, avevo detto senza Dzeko l'Inter contro il Napoli dovrà fare una grandissima partita, una partita di possesso palla, perché se non hai l'appoggio devi giocare a calcio. E l'Inter doveva dimostrare, al contrario di quello che era successo contro il Milan, che sapeva giocare a calcio. Doveva dimostrare di essere una squadra che anche con la palla tra i piedi sa cosa fare. E devo dirvi, e l'ho ripetuto tante volte, che Inzaghi mi sta stupendo partita dopo partita. Non pensavo mai che sarebbe riuscito a cambiare completamente l'identità di questa squadra, trasformandola in una squadra veramente, dico, europea. E non lo dico facendo lo spavaldo, perché questa è una squadra europea, con un pressing alto, che gioca verticale, che gioca col possesso palla, che gioca veloce, che fa divertire. E se, negli scontri diretti, forse siamo mancati di fortuna, perché io non ricordo una partita brutta dell'Inter negli scontri diretti. Ricordo partite dove l'Inter non ha saputo capitalizzare la mole di gioco prodotta. E è vero che gli episodi poi contano, perché se guardate anche i gol, guardate il gol di Mertes, guardate il gol di Zelinski nel Napoli, quanto contano i singoli giocatori, la giocata dei singoli giocatori, dico anche che se produci tanto è normale che tu debba capitalizzare. E questa sera l'Inter lo ha fatto. Poi andando a rischiare tantissimo nel finale, e lì arriviamo, prima di arrivare ai meriti dei vari giocatori, perché devo dire alcune cose importanti, all'unico difetto Inzaghi, che purtroppo ancora non ha risolto, mentre lui riesce sempre a far giocare la squadra in modo veramente bello da vedere, mi sento ancora una volta di doverlo criticare sui cambi. È facile dirlo dopo, però al settantesimo fare quel tipo di cambi mentalmente, ma mentalmente sta dicendo ai giocatori ok facciamo 20 minuti a difenderci. E la partita era 3-1, l'Inter era in controllo in quel momento. Togliere Barella, che è il fulcro del gioco dell'Inter, anche mentale, perché uno che parla, urla, è il futuro capitano, quindi è normale che sia il centro del gioco dell'Inter. Toglierlo, anche se poi diciamo sempre che Barella gioca sempre, gioca sempre, gioca sempre, deve riposare, ma questa è una partita troppo importante. Poi l'Inter era rischiato addirittura di pareggiarla. Il Napoli, per le due occasioni clamorose avute nel finale, penserà di aver meritato un pareggio. Io vi dico che l'Inter, ancora una volta, però, nella prestazione globale ha dimostrato di essere una grandissima squadra, che poi sa soffrire. Che poi sa soffrire, che poi sa lottare, che poi va sotto la curva a esultare, per dimostrare, per dirci ancora una volta che oh, questi qua non sono a posto, non è che si accontentano dello scudetto scorso. Attenzione, perché nonostante Barella abbia rinnovato a 6 milioni, Lautaro abbia rinnovato a 6 milioni, hanno ancora fame questi. Hanno ancora fame e lo dimostrano ogni domenica e ogni mercoledì sul campo, e ce l'ha dimostrato anche questa sera. E arrivo a parlare dei singoli. Arrivo a parlare dei singoli, e prima di arrivare all'ultimo giocatore, che avevo menzionato anche la scorsa partita, spendo due parole per Lautaro Martinez, un giocatore che non segnava da un mese e mezzo, criticatissimo, criticatissimo da tutti, criticatissimo da tutti, che sbaglia il rigore decisivo, che probabilmente ci avrebbe fatto vincere il derby, che stasera segna, con una voglia matta di segnare, e va sotto la curva, con le mani giunte a chiedere scusa per il rigore sbagliato. Uno che ha appena firmato un contratto a 6 milioni di euro, uno a cui gli è stato detto per due anni, che era uno che voleva soltanto i soldi, che voleva soltanto i soldi, che non gli fregava niente dell'Inter, che voleva andare a Barcellona. Grazie Lautaro Martinez di averci fatto vedere che vuoi giocare in questa squadra, che volevi giocare in questa squadra, soprattutto grazie di averci dimostrato che ci tieni ai tifosi, perché è un ragazzo che segna contro il Napoli, sarebbe potuto andare a esultare sotto la curva, tranquillamente godersi, godersi le esultanze della curva, che chiede scusa a tutti i tifosi per il derby, vuol dire che ci tiene, e l'ha dimostrato questa sera sul campo. Peraltro è un ragazzo che ci mette sempre tutto, non è l'attaccante d'area di rigore, Lautaro Martinez è uno che corre per 90 minuti, non si ferma mai, peccherà di lucidità davanti alla porta? Sì, lo dico da un anno, che pecca di lucidità davanti alla porta, però vi dico anche che se corri così, sei giustificato al fatto che tu possa avere meno lucidità quando sei davanti alla porta, ci può stare. Quando comincerà a fare 20-30 gol a campionato, sarà uno degli attaccanti più forti in Europa, ma secondo me ci arriverà. Secondo me l'Auto Martinez arriverà a fare 20-25 gol in campionato tutti gli anni, gli manca tanto così, gli manca tanto così, ve lo dico, gli manca tanto così a fare quel salto di qualità. Ci arriverà, sono sicuro al 100%. Potrei parlare di tantissimi giocatori, tanti, perché oggi l'Inter secondo me ha fatto una grande partita, una grande partita. Andanovic che è salva, quella palla sul finale, che non so neanche come sia uscita, veramente rimbalzata sulla traversa due volte forse, incredibile, veramente incredibile. La difesa, Bastoni ha fatto una partita incredibile, Ranocchia, Ranocchia, che ancora oggi è più forte quando aveva 24 anni ed era capitano dell'Inter. Skriniar, il centrocampo, Brozzi, tutti, tutti, potrei parlare di tutti, Darmian, che ha fatto una partita bellissima, secondo me, sia come qualità che come quantità, ma dico un nome, e dirò soltanto lui, Ivan Perisic, rinnovate il contratto a Ivan Perisic, perché in questo momento, anche visto quello che ha fatto ieri sera Teornandez, è il migliore esterno sinistro del campionato italiano, è uno che fa la fase difensiva, la fase offensiva e il gol, fa tutto, fa tutto, quantità, qualità, è più forte anche lui adesso, ha trovato il suo ruolo, Perisic avrebbe dovuto giocare in questo ruolo qua, da quando aveva 25 anni, se avesse fatto questo ruolo qua, a 25 anni, oggi, sarebbe stato considerato uno dei migliori esterni al mondo, perché questo è il suo ruolo, perché a campo davanti, quando lui a campo davanti è devastante, e nonostante abbia 33 anni, ancora è più veloce degli altri, rinnovate il contratto a Ivan Perisic, ve lo chiedo in ginocchio, perché l'anno prossimo, non ne troviamo uno più forte, non c'è sul mercato, visto che l'Inter non spenderà 60-70 milioni, non c'è uno più forte di Ivan Perisic, non facciamo errori, non facciamo cazzate, è qua, gli si fa uno o due anni di contratto, vuole 4 milioni, vuole 5 milioni, rinnovate il contratto a Ivan Perisic, perché è fondamentale per questa squadra, fondamentale, il gol che ha fatto questa sera, non so neanche fisicamente come fosse possibile, quando l'ho visto al replay, ho detto, ma come ha fatto a segnare quella posizione? Non lo so come sia possibile, non lo so. Questa è la fine, la chiusura del video, non volevo esagerare, non voglio neanche andare oltre, sono felicissimo, mi mancava l'Inter, mi mancava una vittoria così, siamo in corsa, siamo lì, soprattutto perché è tornata anche la Juventus, che magari non sarà la Juventus che fa paura a tutti quanti, però vince, e finché vince, bisogna starci attento, perché comunque anche loro hanno dei giocatori di qualità, tanta qualità, e possono fare la differenza. Scrivetevi qua sotto se ne pensate, come avete vissuto questa partita, importante, se avete l'ansia come me, noi ci vediamo come sempre al prossimo video, se non siete iscritti al mio canale, vi piace il calcio, ma soprattutto, se vi piace l'Inter, iscrivetevi, ciao ragazzi.